Cosa sono gli sgabelli melanotici? Il termine feci melanotiche viene talvolta usato per riferirsi a feci nere, catramose o sangue nelle feci. Inoltre, le feci melanotiche possono indicare un disturbo sintomatico o una lesione. Anche se le feci nere a catramose spesso indicano la presenza di sangue nelle feci, una condizione chiamata hematochezia si riferisce anche alle feci color marrone o rosso. In generale, il sangue nelle feci può provenire da qualsiasi parte del tubo digerente, dalla bocca all'ano. Tecnicamente, il termine corretto per questo è feci melaniche, piuttosto che melanotiche, ma i due termini sono spesso confusi. Generalmente, le feci melanotiche indicano che il sangue è originario nella parte superiore del tratto gastrointestinale. Questa parte del sistema gastrointestinale comprende l'esofago, l'inizio dell'intestino tenue e lo stomaco. Quando le feci assumono un aspetto catramoso, significa che sono state esposte a succhi digestivi. A volte ulcere allo stomaco causate da alcuni farmaci possono causare sanguinamento del tratto gastrointestinale superiore. Di solito, le feci di colore rosso vivo indicano che il sangue proviene dal tratto gastrointestinale inferiore, che comprende il retto, l'intestino tenue e l'ano. Alcune condizioni come la di verticolosi e le emorroidi possono causare sangue franco nelle feci. Raramente, basi sanguigni anormali in formazione di tumori possono causare sanguinamento gastrointestinale inferiore. A volte, un sanguinamento dello stomaco rapido o massiccio può causare feci di colore rosso vivo. Alcuni farmaci come peptobismo o le integratori di ferro possono causare feci melanotiche, che di solito sono transitorie e innocue. A volte, determinati alimenti possono causare feci melanotiche. Questi alimenti includono liquirizia nera e mirtilli o more. I pomodori e le barbabietole possono imitare l'aspetto del sangue nelle feci e in casi come questi, un medico può eseguire un test sullo sgabello per escludere la melena. Altre cause di feci melanotiche sono la gastrite, che è un'infiammazione del rivestimento dello stomaco e dell'ischemia intestinale. In genere, l'ischemia intestinale provoca la mancanza di un adeguato flusso sanguigno nell'intestino, causando sanguinamento. Raramente, un corpo estraneo o un trauma al tratto gastrointestinale possono produrre feci melaniche. Il trattamento per le feci melanotiche dipende dalla causa. Determinare la fonte di sangue nelle feci richiede un esame fisico completo e possibilmente esami del sangue che includono un esame emocromocitometrico completo. Melena può causare anemia, che può essere indicata da una diminuzione dei globuli rossi. Altri test diagnostici possono comprendere una serie G superiore e inferiore, un esame ecografico campioni di feci. Sebbene il sangue nelle feci possa indicare una condizione innocua, è necessario escludere altre condizioni più minacciose prima di poter effettivamente effettuare una diagnosi.